L'ultima cosa, la cosa che mi mancherà di più in questa mia avventura è il poato delle... ...è il poato delle menti a un mio gol. Questa è una cosa e poi un'altra cosa, l'ultimo anno in Serie B la società mi ha permesso di portare in campo le mie figlie all'entrata del campo prima di una partita. E questi sono ricordi che non si cancellano e sapere di non poter fare più tutto questo è la cosa che mi fa soffrire di più.